Ehi! Ciao Londra! London Calling! Ciao a tutti, benvenuti! Welcome back, my friend! Bene! Basta, finito lì! Dunque, allora, a questo punto, fatemi vedere un po', questo... Bene! Ok, allora, adesso comincia lo show, che non avrà mai fine, eh? E cominciamo facendo un passo molto indietro, molto indietro, molto indietro, un passo... Cioè, torniamo all'inizio, all'inizio. Allora, questa è la prima canzone del mio primo LP. Grazie a tutti! La nostra relazione è qualche cosa di diverso, non è per niente amore, non è forse neanche sesso.